Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara. Nella giornata di domenica saremo ancora interessati dalla perturbazione giunta sabato, i cui maggiori effetti saranno relegati alle regioni meridionali, che sperimenteranno piogge e rovesci frequenti, residui anche al centro seppur con prospettive di miglioramento, eppure sul nord-est ma con ampie schiarite vedete in avanzamento dal nord-ovest. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi, che saranno in lieve aumento al centro nord, sebbene su valori superiori alle medie del periodo, con qualche gelata giusto solo sul Piemonte. Per quanto invece riguarda le massime ci attendiamo un generale aumento un po' su tutto lo stivale, su valori ben superiori alle medie del periodo e più tipiche di un inizio primavera. Andiamo ora a vedere il dettaglio previsionale partendo dal nord Italia, con una mattinata piovosa sul Triveneto e risultate precipitazioni fino al pomeriggio sul Friuli Venezia Giulia, nevose fin verso i 700 metri. Ampie aperture invece si faranno strada sul nord-ovest e dentro fine giornata anche più ad est. Spostiamoci ora alle regioni del centro, con una mattinata da molto nuvolosa a punto piovosa, soprattutto tra Lazio ed Abruzzo, con risidute precipitazioni anche tra Toscana e Marche, ma vedete ampie aperture entro il pomeriggio. Un po' di neve sull'Appennino fin verso i 1100-1400 metri. Andiamo infine alle regioni meridionali, che saranno le più penalizzate, con piogge e rovesci sparsi fino almeno al pomeriggio, in esaurimento serale, ma ancora persistenti sulle versanti tirrenici. Tempo infine miglioramento anche sulla Sardegna, con aperture via via più ampie. Per adesso mi fermo qui per tutti i dettagli. Venite a trovarci anche sui social netto di Facebook, Google+, e Twitter, alla voce Trebi Meteo.